Caricamento e stampa di buste Caricare le buste nel vassoio 1 Aprire il vassoio Utilizzare il fermo di regolazione per allargare le guide della carta verso l'esterno Caricare le buste Regolare le guide laterali in modo che tocchino leggermente la risma di carta senza piegarla Non sovraccaricare il vassoio Sul canale YouTube di HP Support sono disponibili altri video utili